Buongiorno a tutti e benvenuti nel webinar come migliorare la produttività dei collaboratori. Allora, la produttività dei collaboratori è un tema di fortissimo interesse. Prima di tutto perché l'azienda è costantemente nella ricerca di efficienza, il costo del personale ha un impatto sempre più forte in quello che è il prodotto o servizio che l'azienda vende, ma soprattutto la produttività condiziona l'andamento dei processi aziendali. E la cosa veramente positiva è che ci sono enormi margini di miglioramento. Mi occupo di processi aziendali oramai da più di 15 anni e vi garantisco che ogni intervento di organizzazione in merito ai processi ha impattato positivamente sulla produttività con risultati ben oltre le aspettative dell'imprenditore. Allora, cerchiamo di capire che cos'è la produttività. Allora, tipicamente se chiediamo a chiunque cos'è la produttività, ci viene detto ah, è la capacità di evadere le cose da fare. Questo è un concetto sbagliato perché in un ambito aziendale la produttività va vista in un contesto di processo. Noi siamo tipicamente in processi in serie che coinvolgono più risorse, quindi la produttività è la capacità di dare valore al processo tramite attività che ognuno di noi si trova a dover svolgere nella propria quotidianità, che devono essere efficienti e in grado di trasformare nel più breve tempo possibile, nel miglior modo possibile, l'input in output. Questa è la definizione vera di produttività. Per migliorare la produttività bisogna lavorare su due leve. La prima si chiama organizzazione del tempo, la seconda si chiama metodo di lavoro. Partiamo dall'organizzazione del tempo. C'è tantissima letteratura tecnica del pomodoro, ce ne sono veramente tantissime. Io vi sintetizzo quale sostanzialmente è la tecnica migliore. È quella di organizzare il tempo in sessioni che hanno diverso livello di concentrazione. Allora, per entrare un pochino nel pratico, ci sono delle attività che io chiamo a media concentrazione, che possono avere la durata orientativa di 10 minuti, che devono essere necessariamente intervallate con attività ad alta concentrazione. Attività ad alta concentrazione durante le quali andremo a vedere che cosa è opportuno fare. Dopo un certo numero di sessioni, che equivale a circa le paio d'ore di lavoro, prendetevi una pausa, 10 minuti, un quarto d'ora, per riprendere poi con lo stesso ritmo in sessioni intervallate tra media concentrazione ed alta concentrazione. Nelle sessioni ad alta concentrazione è importante che ci siano dei requisiti per considerarli ad alta concentrazione, che sono no ad interruzioni dell'operato, no a porte che si aprono, gente che chiede delle informazioni, io devo distogliarmi dall'attenzione di quello che sto facendo, no a nuove attività che nascono per chi arriva al pop-up della mail e lo apro, apro la mail per vedere che cosa mi stanno chiedendo, ma altrettanto è importante no a distrazioni. Cellulari, social, qualunque di questi tipi di attività che distoglie dall'operato la persona e rende l'attività ad alta concentrazione un'attività frammentata in più parti all'interno della quale il nostro cervello non è in grado di mettere appunto la massima concentrazione su quello che stiamo facendo. Queste attività ad alta concentrazione sono poi intervallate, come dicevamo, da delle attività a media concentrazione, che sono magari più frequenti, dove in quel momento il cervello riposa anche un pochino, dove si va ad esempio a fare l'analisi e la pianificazione di nuove attività, andiamo a leggere le mail, quindi raccogliamo i nuovi input, magari ovviamente anche rispondiamo alle mail più semplici, perché no ci dedichiamo a delle chiamate, pianificate o non pianificate, durante le quali naturalmente sono da fare, sono attività da svolgere, quindi bisogna trovare il tempo di farle. Apro una parentesi, chi all'università a prescindere dei risultati applicato queste tipologie di metodi di organizzazione del tempo è riuscito ad ottenere lauree in tempi decisamente più brevi, meno stress da studio, sono le stesse identiche tecniche che si consigliano a livello scolastico. Chi di voi magari non ha figlie, i quali ha sempre chiesto di mettere concentrazione in quello che sta facendo, quando fa matematica, quando fa attività impegnative, è lo stesso identico principio che va attivato in azienda. Non possiamo pensare che una persona sta facendo attività ad alta concentrazione mentre ascolta della musica, dove la musica tipicamente ha delle tonalità con dei picchi e dei momenti più semplici, che in quel momento il cervello occupa una parte della sua attività cerebrale nel capire, ad esempio, la musica. Quindi un'attività ad alta concentrazione tipicamente richiede silenzio. La seconda leva non è l'organizzazione del tempo, ma il metodo. Il metodo è molto importante e per capire il metodo dobbiamo capire la logica del processo. Abbiamo detto che noi abbiamo un input che tramite un processo di trasformazione, che è la nostra attività, va trasformato in input, ma per riuscire a capire la logica di processo dobbiamo capire che quando c'è un input quello che tipicamente tutte le persone fanno è che schedulano quando questa cosa andrà fatta. Quindi quando dovrò fare questa attività? Quindi naturalmente aspetto che venga il momento, in quel momento prendo in mano la cosa da fare, mi accorgo che mancano dei dati, faccio l'assegnazione ai miei colleghi per recuperare delle informazioni o perché no al cliente stesso che mi ha chiesto delle informazioni, quindi rimbalzo la palla chiedendogli delle informazioni, aspetto le risposte, mi metto a fare l'attività che naturalmente questa attività sarà in ritardo perché quando l'ho presa in mano e che era il momento di farla mi sono accorto che mancavano dei dati, producendo poi l'output. Questa è una logica di processo che è l'antitesi della produttività. È molto simile l'attività in termini di singoli elementi che si devono fare quando si va a fare una logica di processo di produttività, però l'aspetto fondamentale è che una volta che ricevo l'input non lo prendo in mano subito perché magari sono in un'attività ad alta concentrazione, faccio subito l'analisi, faccio subito le assegnazioni, a questo punto schedulo quando sarà il momento di farla anche sulla base dei dati che mancano, aspetto il momento di farla, a quel punto le informazioni saranno arrivate ed ecco che faccio l'attività, il processo di trasformazione e genero quindi l'output che diventa a sua volta l'input per chi si trova in serie sul processo. Descritte in maniera diversa dalla ricezione dell'input, aspetto o analisi, schedulazione e assegnazione assieme, che si chiamano presa in carico, quindi l'analisi, la schedulazione e l'attività si fanno tutte d'un fiato, aspetto il momento in cui ho pianificato che si debba iniziare la fase di esecuzione, faccio la fase di esecuzione di completamento appunto che come vedete anche della colorazione sono la fase ad alta concentrazione. Cosa succede tipicamente? Quali sono i problemi tipici della fase di presa in carico? Ovvero la fase 1 che vedete qui rappresentata. Ma i problemi tipici sono che ci sono troppi canali oggi. Oggi la richiesta di un input, l'input che si genera dal quale io poi devo dare un output arriva su WhatsApp, aprono la porta, arriva via telefono, me lo dicono a voce, arrivano le email, quindi è complesso monitorare tutti questi canali, è dispersivo, è un casino tenere la tracciabilità di che cosa è arrivato, che cosa ho già fatto, qual è il punto della situazione per cui quello che è successo prima è proprio ideotico a quello che io poi devo fare. Mancano informazioni, arrivano delle informazioni dove mancano degli elementi essenziali, priorità, entro quando, cosa, mi arriva solo magari cosa devo fare, ma mi manca entro quando, quali sono gli elementi per farla, quindi troppi canali oggi, l'avvento dei social, l'avvento della messaggistica istantanea, ha velocizzato le comunicazioni spesso interne, ma ha creato un problema poi in quella che è la produttività della persona, cioè quelli che sembrerebbero strumenti di produttività, invece sono proprio il contrario, sono strumenti per accelerare la comunicazione, per accelerare la velocità, ma che sono proprio l'antitesi della produttività. bene, questo poi genera un monitoraggio impossibile, perché ci sono troppe liste di cose da fare, mi sono messo delle bandierine su Outlook di cose da fare, ci sono delle cose che mi hanno mandato su un foglio di carta, qualcuno ha aperto la porta e l'ho segnato su un altro pezzo di carta, e soprattutto le sottoattività, quelle che io ho dovuto girare agli altri, che sono legate a questa cosa che io dovrò fare, come faccio a monitorarla, mando una mail e cosa faccio? mi metto una bandierina sulla mail in uscita, dove non c'è una data, non c'è niente, non capisco a cosa si lega, è un casino, no? E soprattutto la priorità, con quale priorità deve arrivarmi questa cosa entro quando per poter fare poi io l'altra cosa, è complesso, è impossibile, bisogna essere dei maghi per poter riuscire a gestire la produttività con troppi canali che ci sono aziendali oggi che mettono in condizioni di avere un'efficienza che è progressivamente in calo, cioè è destinata a discendere, allora questo si somma poi ai problemi della fase di esecuzione, troppe interruzioni, sto facendo qualcosa, uno apre la porta, il business è diventato frenetico, siamo sempre più con tempi di consegna brevi del nostro output, quindi interruzioni continue, perché non ho fatto l'analisi, sono stato frettoloso, troppa gente apre la porta, troppi pop-up, arriva la mail, continuo a interrompermi, un casino, e la priorità dov'è? Ricordatevi che in un processo in serie c'è un grossissimo problema, basta un collaboratore che sia poco produttivo, ma non per volontà, per gli elementi prima descritti, la mancanza di un metodo e la mancanza di una corretta digestione del tempo, si fa trascinare dagli eventi, quindi, attenzione, un collaboratore che si fa trascinare dagli eventi, quindi arriva la nuova priorità, lui corre dietro la nuova priorità, abbandonando quello che sta facendo, bene, la sua produttività condiziona la produttività di tutti quelli che sono avali del processo, è un effetto domino, una figura che genera dei ritardi nel processo, porta dei ritardi anche progressivamente e successivamente, ricordiamoci poi che i processi vanno a intermittenza, devo fermarmi perché manca un dato, poi riparto, poi mi rifermo, è un casino, ma soprattutto fa nascere processi dannosi, un processo di un sollecito dove un cliente mi chiama perché non ha ancora ricevuto quel documento o quella cosa, semplicemente perché è stata fatta una cattiva gestione del processo interno, questo processo di sollecito ha valore zero, anzi ha valore negativo, sta assorbendo del tempo senza dare valore e in più a un cliente insoddisfatto. Se voi andate a misurare quanti sono i solleciti all'interno di un'azienda, quando si fanno dei progetti di riorganizzazione o di business process, re-engineering o improvement, si mettono degli indicatori di KPI, l'imprenditore prende paura quando vede il livello di efficienza di un'organizzazione che riteneva abbastanza a posto, cioè ci sono dei margini di miglioramento che sono pazzeschi, i solleciti nelle aziende non vi ridete conto quanti sono, ma stiamo parlando anche di piccole realtà di 4, 5, 6 persone solo che abbiamo imparato oramai a convivere con questo nuovo modo di lavorare che è assolutamente da cambiare. Ricordiamoci poi che purtroppo la bassa probabilità di un collaboratore concorre ad una qualità scarsa dell'operato, chi continua a fare azioni frammentate naturalmente perde la concentrazione e quindi fa gli errori, succede che poi manda dei dati che mancano dei dati quindi mi torna la risposta di ritorno guarda che mancano dei dati e allora li rimando li ritorno faccio la stessa cosa sette volte quando se l'avessi fatta bene all'inizio me ne sarebbe bastata una ma la cosa più dannosa è che chi è poco produttivo se ne accorge cavoli mi servirebbe la giornata da 20 ore no ti serve maggiore produttività non ti serve una giornata da 20 ore perché il cervello non è in grado di lavorare 20 ore alla massima concentrazione ti serve produttività quindi questo fa nascere insoddisfazione situazioni stressogene all'interno del quale ci sono i malcontenti le persone iniziano tra di loro ad accusarsi reciprocamente che sono in ritardo perché tu non hai fatto tu non segui mai quello che ti chiedo le cose le date sempre tutte a me situazioni che portano veramente al famoso concetto di stress dal lavoro correlato sono figlie di bassa produttività allora cosa dobbiamo fare dobbiamo iniziare ad indagare l'imprenditore non indaga come un dipendente o come un collaboratore sta pianificando le proprie attività l'importante è che le faccia ma voi dovete iniziare a guardare ma lui dove come fa a gestirsi le proprie cose ha lì un pezzo di carta si è messo le sottocartelle le bandierine si ricorda memoria cioè dobbiamo entrare nel merito di come sta organizzando il proprio tempo un dipendente non possiamo solo misurare le macro attività l'output che ne esce alla fine della giornata le offerte che siamo riusciti a fare è quella è il risultato di un lavoro di organizzazione del tempo che la singola persona deve essere formata istruita ed accompagnata qual è l'effort che sta dedicando le diverse attività quanti chilometri di mail inutili stiamo scrivendo perché potrebbero essere sostanzialmente un modello mail pronto col giusto strumento o quante volte stiamo scrivendo al fornitore quella cosa frammentata in 10 mail quando bastava fare un'attività fatta bene con la prima mail fornendo tutti i dati ma vi rendete conto di quante ore vengono bruciate e quindi soldi e quindi mancanza di produttività ma soprattutto un cattivo operato di quella figura che ripeto non è volontario è dato dalle condizioni che lei si trova a vivere all'interno dell'organizzazione come impatta sugli altri processi allora dobbiamo essere noi a creare le condizioni per fare ottenere una migliore gestione del tempo dobbiamo eliminare le distrazioni i telefoni il chiasso i casini dobbiamo mettere in condizioni di sensibilizzare sull'importanza della fase di analisi sensibilizzare sull'importanza di offrire informazioni chiare a chi viene dopo di noi e perdonatemi non è una marchetta commerciale dobbiamo dotarsi di una soluzione software efficace Tueppi nasce per migliorare questo tipo di attività migliorare la produttività in azienda dobbiamo dotarsi di una soluzione che permetta di assegnare e monitorare le attività in modo tale da essere in condizione di capire quando un collaboratore ha bisogno di supporto sia in termini organizzativi del proprio tempo sia in termini di saturazione capito questo cosa potete ottenere l'aumento della produttività parte dal 25% in su a persona ma pensate quanto costa una persona e cosa vuol dire aumentare la produttività del 25% riduzione dei processi dannosi solleciti spariscono la riduzione delle situazioni stressogene si sorride qualche volta di più in azienda perché si è anche fieri di un risultato che siamo riusciti a portare per la propria organizzazione tutti vogliono sentirsi orgogliosi di essere protagonisti del successo dell'impresa migliora notevolmente il rapporto con la clientela potete attuare delle strategie migliorative e se non ci credete andate a guardarvi le testimonianze di decine di clienti che sono su questo link queste non sono marchette commerciali sono clienti che riconoscono in maniera palese plateale quanto è cambiato la loro vita in termini di produttività ed efficienza solo introducendo una soluzione software nata per fare questo e sensibilizzando un po' il metodo di lavoro credetemi vale veramente la pena cambiare marcia all'interno della vostra organizzazione vi lascio a riflettere su questo che avete appena visto e vi invito ad iscrivervi ai prossimi webinar a a a a Grazie a tutti.